Hai preso una pasta? Sì. Il sugo? Sì. Ah, nonna! Ora e qua? Ovvio. Tu hai controllato se non ci sono scioperi, manifestazioni? Tu hai controllato che il volo è confermato? Ho controllato i segni zodiacali. Leone primo, sagittario secondo. Tutto ok. Attenzione, prego. Informiamo i signori passeggeri che il volo ZY 7490 con destinazione Buenos Aires è stato cancellato a causa di un porto maltempo. Ma io perché mi fido sempre di te? Perché? Perché ho fatto la palizza a viaggio. Eh? Che maleducati!